Il mondo del lavoro digitale è cambiato. Ogni giorno, dall'inizio dell'emergenza, ci siamo trovati a fronteggiare nuove sfide che hanno rivoluzionato le nostre abitudini. Le imprese cambiano, si adattano e si reinventano ogni giorno, ripensando i propri processi produttivi in chiave smart working. Ma un nuovo mercato comporta nuovi problemi. Ci siamo ritrovati ad essere connessi, ma a navigare attraverso strumenti nuovi, complessi, senza una bussola per orientarci. Il lavoro a distanza non è una novità, nel resto del mondo esiste già da tempo, ma in questo oceano di opportunità e vantaggi c'è ancora tanta confusione. Questo periodo ha portato in Italia grandi opportunità e una nuova consapevolezza, aprendo la strada a tutti i vantaggi dello smart working, anche dopo l'emergenza. Esiste quindi un modo per lavorare meglio? Ci vorrebbe una soluzione per simulare gli uffici, connettere realmente le persone e rendere immediata la comunicazione, senza penalizzare la produttività. Coderblock è nato per questo. Siamo il primo ufficio virtuale in 3D, connesso ad una piattaforma digitale proprietaria in grado di aiutare aziende e professionisti a collaborare meglio, in modo semplice e innovativo. Lo facciamo grazie ad Office, dove ogni stanza è una videochiamata dedicata e puoi ritrovarti a tenere un meeting in sala riunioni o seguire un webinar in sala conferenze. O grazie a Workspace, lo spazio 3D dove gestire i task e la produttività del team. O ancora grazie a Marketplace, utile per trovare nuovi collaboratori. Insomma, Coderblock è lo strumento ideale per gestire e monitorare i tuoi gruppi in smart working, una vera e propria rivoluzione nel mondo delle collaborazioni digitali. Dietro Coderblock c'è un team preparato e motivato, con esperienza decennale legata allo smart working e competenze relative allo sviluppo software, al design, alla user experience e al team management. Nell'ultimo anno abbiamo raccontato con entusiasmo il nostro progetto in giro per il mondo, raggiunto nuovi traguardi e selezionato i migliori partner tecnologici. Siamo oggi pronti per portare Coderblock allo step successivo e lo faremo grazie al supporto di chi crederà in noi. Investendo in Coderblock diventerai parte integrante di una community affiatata con oltre 5.000 utenti, che ha alle spalle una startup solida con anni di fatturato inattivo. Investirai in una tecnologia scalabile, contribuendo a raggiungere i nostri obiettivi in un mercato del lavoro in sicura crescita. Investi in Coderblock. Insieme possiamo aiutare l'Italia a lanciarsi nel futuro.